Con te è diverso, tu non sei come le altre, tu sei l'unica vera donna che io ami al mondo, il mio rifugio sicuro, tu sei come mia madre. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù, cercavo in te. La coppia aperta è un bidone, ci hanno sbattuto la testa in tanti. E chi se ne frega, ma proprio nel momento in cui gli altri falliscono, dico, ci sbattono il muso. Noi invece, noi invece dobbiamo buttarci, capisci, reinventarla per noi. Per salvare la nostra amicizia, il nostro matrimonio, il nostro privato, bisognava rendere pubblico il nostro letto. E io passavo delle serate così. Guarda che io, io ti pianto un casino, sai, sì, 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 io vengo davanti al posto dove lavori, sì, e batto il marciapiede, avanti e indietro, tutto il giorno, sì, sì. Con un cartello in fronte, con su scritto qui, lavata e profumata, si offre in offerta speciale la moglie dell'ingegnere Mamberti. Favolosi sconti, Kral è malearci. E lui mi parlava, eh, mi dava consigli, da compagno comprensivo, pure sincero, eh. Dal momento che hai scoperto che non sono l'uomo giusto per te, fatti un'altra vita. Te lo meriti, santo Dio. Devi trovarti uno come si deve. Sei una donna straordinaria. Dallas, ci stavo dentro. Mi sono adattata a cercarmi un altro uomo. Ho fatto fatica, eh? Però poi l'ho trovato, l'ho trovato e lo amo e lui mi ama. Ma, e ora tu, tu vuoi rovinarmi tutto, mostrandoti a lui così come sei, meschino, grezzo e volgare. Ma, 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 ma allora me lo dovevi dire, no? Me lo dovevi dire che per me non ci deve essere futuro. E che amare... Lasciami ammazzare in pace, per favore, eh! Ci dicevo, perché non accompagni tu Piera dal ginecologo, eh? Sai, per farsi mettere la spirale. Dai, eh? Forse tu riesci a convincerla. Anzi, guarda, secondo me ci metto la mano sul fuoco con te Pierina ci viene di sicuro. Ma metto a te la spirale, sai? È nel prepuzio che così fai la biffia girandola! Ecco come ha reagito!